Un portale tutto dedicato allo shopping rosetano. È un'iniziativa unica nel suo genere, quella lanciata dall'Associazione Commercianti Asso Rose. Oltre 40 le attività di tutti i settori che hanno aderito all'iniziativa, che si sostanzia attraverso un portale dedicato che diventa una vetrina permanente per le singole attività. Un mondo semplice e diretto di trovare l'esercizio commerciale con un semplice clic. Ovviamente è un primo passo nel campo del commercio digitale e che ha trovato il sostegno dell'amministrazione comunale. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. L'obiettivo è di essere un punto di riferimento per i cittadini e per i visitatori, in modo tale da trovare in modo semplice e immediato l'attività commerciale di cui hanno bisogno in quel momento. Quindi è un modo per mettere in contatto, a portata proprio di smartphone, le attività commerciali del territorio rosetano con i visitatori e con i cittadini. La ricerca è molto semplice perché si utilizzano delle parole chiave. Le parole chiave sono abbinate ai servizi e ai beni che vengono offerti dalle attività aderenti al portale e quindi in questo modo si apre tutta una lista di attività e ogni attività all'interno del portale ha una propria scheda con l'immagine, la geolocalizzazione, i servizi che vengono offerti, il contatto, quindi il telefono, la mail, addirittura anche il collegamento con il proprio sito web e con le proprie pagine social. Nasce per avere una maggiore visibilità da parte di tutti gli associati di Assorose, hanno il diritto di avere un'ottima visibilità sul web. È essenziale avere visibilità perché anche per i nostri turisti quando arriveranno abbiamo creato questo portale, un vero e proprio portale dello shopping rosetano e quindi con un semplice smartphone riusciamo inquadrando un QR code a entrare in un mondo anche virtuale però della nostra cittadina.